Vole fare tutto da solo, si punta alla rete di rigore Stroh, gol! 2-0! Come Maradona! Contro l'Inghilterra E scusate se il paragone può sembrare irriverente, ma ha fatto un gol Pazzesco! Tutti in piedi, standing ovation per questo campione assoluto Donna incinta, presidenti, allenatori, tipo numero, secondo Poi punta alla rete di rigore, qui capisce che vuole fare tutto da solo l'erede di Maradona Allora salta un altro uomo, il terzo, passa di fianco un quarto Vede davanti a sé, il portiere avversario lo supera Prendete l'immagine del gol che segnò Diego Armando Maradona Nel mondiale del 1986, in quell'Argentina-Inghilterra 2-1 Il giorno delle Malvinas, il giorno della mano dei Dios, il giorno di una rete straordinaria E la stessa immagine, anche se naturalmente la partita è un'altra Ma l'azione, il talento e tutto quanto, è la stessa scena Che gol pazzesco!